Buongiorno a tutti, io sono Laura Mustica, insegno in una scuola primaria a Ventimiglia, Angela era appunto la mia collega. Mi sono avvicinata al coding lo scorso anno, quando frequentando il corso di animatori digitali ci hanno detto di fare un'esperienza con Scratch. È stata tragica e la prima cosa compra libri, guarda, cerca notizie su internet, i gruppi Facebook sono stati molto utili e poi mi sono appassionata a questa nuova realtà, tanto che abbiamo sviluppato, portato nella scuola, un progetto proprio di plesso che ha coinvolto tutte le classi, che parlava di coding. Quindi siamo stati poco strutturati nelle cose, ad esempio la scacchiera di Codirobi noi l'abbiamo vista con i cerchi, abbiamo partecipato allora del codice e abbiamo imparato anche un pezzettino dell'odd del codice. I bambini si sono tanto divertiti. Grazie.